In studio Viviana Sammito. La propria abitazione, ma le scene fanno rabbrividire. Sentiamo Marco Scavino. Questa è la camera dei ragazzi. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Quella che avete ascoltato è la voce di Valeria Spadola. La donna originaria della città di Modica, in provincia di Raguse, che da anni vive insieme al marito Giuseppe e ai tre figli a Forlì. Loro hanno perso tutto. Lo state vedendo da queste immagini che raccontano le 22 ore di terrore vissute dalla famiglia in attesa dei soccorsi. Fortunatamente l'intero nucleo familiare è stato messo in salvo, ma adesso ha perso tutto e spala tra il fango per cercare di trovare ciò che l'alluvione ha risparmiato. Valeria e la sua famiglia al momento non vogliono parlare, sono troppo scossi. Hanno affidato le loro parole alla presidente dello scontrino sospeso, Alessia Sudano, che ha avviato una raccolta fondi straordinaria attraverso la piattaforma GoFoundMe. Ci stiamo occupando di Valeria, di quello che è successo alla sua casa, al suo negozio, alla sua attività, alla loro vita. Come potete vedere dalle immagini, solo oggi sono riusciti a rientrare a casa e hanno trovato veramente l'inverosimile. Sono immagini che parlano da soli, che parlano di quelle 22 ore di attesa, di disperazione. Noi come scontrino sospeso continueremo nella raccolta fondi, continueremo ad affiancare Valeria e la sua famiglia. Nel frattempo voi per favore donate e ripetiamo e ribadiamo, se siete a conoscenza di qualcuno che si trova in Emilia e che è il nostro concittadino e che ha bisogno del nostro aiuto, non esitate a contattarci alla mail scontrino sospeso mdcmodica.com Proseguiamo, vi terremo informati, la famiglia di Valeria vuole assolutamente rendere partecipi anche chi sta donando. Ringrazio la redazione di Video Mediterraneo, ringrazio a noi dello scontrino sospeso e ringrazio a tutti i donatori e tutti i volontari che in questo momento le stanno prestando aiuto e soccorso per quello che è una casa in rovina e una vita da rifare e da ricostruire. Un'altra testimonianza arriva da Fenza, dal giornalista modicano, digital manager in Formula 1, Diego Mandolfo. Lui che ricorda la notte dell'alluvione con le urle e le grida dei cittadini sui tetti implorando i soccorsi ecco questa testimonianza ma soprattutto anche qui la gara di solidarietà, gli aiuti per spalare fango e acqua nel più breve tempo possibile così tornare alla normalità. È una visione da girone e da girone dantesco, sembra un territorio di guerra, c'è il fango dovunque e si vede soltanto gente col fango fino ai capelli. Immagini che non vorrei mai più vedere, così il collega giornalista Diego Mandolfo, digital manager nel team della Formula 1 che da dieci anni vive a Fenza racconta lo scenario dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. Tantissimi amici, tantissimi colleghi hanno perso sostanzialmente tutto. L'acqua è arrivata fino al primo piano per cui centinaia di macchine sommerse, distrutte. Le strade sono piene ai lati di cumuli di mobili, elettrodomestici, suppellettili, libri, vestiti, tutta la roba che la gente ha spinto fuori di casa e che adesso aspetta di essere recuperata. Queste persone sfollate in questo momento sono ospiti di qualche struttura comunale? Esatto, ho fatto un giro perché ho degli amici anche in comune, palestre, palestre di scuole, palazzetti dello sport, la fiera di Faenza. Sono ospitati in lettini da campo, chiaramente per lo più anziani, magari che non hanno familiari, dove andare, stiamo portando chi vestiti, chi cibo, chi coperte. Era prevedibile questo disastro ambientale? L'allerta era stata data, però chiaramente poi la dimensione del disastro non era chiaramente prevedibile. Il maltempo ha messo anche ad una prova la Formula 1, i team manager hanno deciso di rinviare le gare? Sì, poi tutti i team di Formula 1 insieme con Formula 1 stessa e con la FIA si è deciso di sospendere il Gran Premio. Non c'erano le condizioni, c'era anche il fiume Santerno che è quello che passa proprio accanto all'autodromo di Imola che stava esondando, per cui ha invaso comunque il paddock e il circuito stesso. C'è un altro Gran Premio a Monaco fra meno di una settimana, per cui si spera che tutti possano spostare le monoposto, i box, adesso a Monte Carlo. Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha ricevuto anche la chiamata del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha voluto esprimere la sua vicinanza e solidarietà a Faenza. Mi ha chiesto di trasmettere a tutti voi il suo messaggio, ha scritto il primo cittadino in un post su Facebook, in questi giorni di ripartenza sulla strada della ricostruzione. E all'erta arancione a Palermo, il maltempo perdurerà fino alla mezzanotte di domani, come ha riferito il capo della protezione civile regionale Salvo Cocina, ci saranno forti precipitazioni, diminirà il vento e raccomanda ai cittadini la massima prudenza. Fino alla mezzanotte di domani, all'erta arancione soprattutto nella zona del Messinese e del Palermitano, i vigili del fuoco, vista l'emergenza, hanno chiamato personale in turno libero per comporre squadre di soccorso aggiuntive. È stata riaperta la carreggiata in direzione Catania in direzione Palermo sulla A19. Arcipelago eoliano isolato, con il mare in tempesta, sospinto da raffiche di vento fino a oltre 20 nodi, le onde investono con violenza le coste e le strutture portuali esposte allo scirocco. Sotto pressione sono tutte le isole e il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha attivato il centro operativo comunale in forma ridotta per monitorare la situazione sul territorio e predisporre tempestivamente gli interventi necessari. Oltre alla chiusura del traffico a Lipari di diverse arterie costiere, è stata disposta anche l'intardizione della viabilità nella zona a porto dell'isola di Vulcano, investita dalla mareggiata che ha anche distrutto il cantiere per la realizzazione del nuovo approdo agli scafi e danneggiato la struttura esistente. Ricognizioni sono in corso su tutto il territorio comunale di Lipari e in quelli dei comuni dell'isola di Salina. Vigili del fuoco e lavoro a Catania e provincia per il maltempo, con danni creati dal forte vento e dalla pioggia, sono già 26 gli interventi di soccorso per dissesti statici, alberi pericolanti e danni per l'acqua. Tra i comuni maggiormente interessati dal maltempo ci sono Catania, Paternò e Adrano. Sono oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco nella Sicilia orientale. Le province maggiormente colpite sono Catania, Enna, Messina e Ragusa. I territori più colpiti sono quelli della Sicilia orientale in questo momento. C'è stata anche una forte pioggia nel Catanese, ma la perturbazione si sta spostando ora sul Messinese, Messinese ionico e tirrenico. Ma fino a ora abbiamo avuto danni da fortissimo vento e poca pioggia. Ora pare che il vento stia lasciando il posto alla pioggia. La situazione strutturale è comunque sotto controllo? La situazione è sotto controllo da un punto di vista di protezione civile, nel senso che tutti i sindaci, le strutture comunali, provinciali e statali si sono allertate. Però teniamo conto che qualora la pioggia dovesse continuare, si avrebbero effetti di danno più forti. Rispetto ai quali non possiamo fare altro che raccomandare ai cittadini di non porsi su strada, se non per le estreme necessità, ai comuni di presidire i punti a rischio, le aree soggette all'allagamento, le aree soggette a frana, caduta massi e sondazione. Sono buone pratiche che hanno permesso comunque di evitare danni alle persone. La Corte Sportiva di appello presso la FIGC ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dall'SD Real Aversa verso la decisione nel giudice sportivo che ha omologato il risultato della gara disputata domenica 14 maggio, quale scontro decisivo per la salvezza del campionato in serie di Arragusa. E' stato dichiarato inammissibile il reclamo presentato dal Real Aversa e dal suo presidente, il principe Emanuele Filiberto di Savoia, in riferimento alla partita di domenica scorsa che aveva dato vita ad una grande polemica per le dichiarazioni dell'erede di casa Savoia riguardo la città di Ragusa. Il principe infatti sostiene che i suoi giocatori, i giocatori del Real Aversa, sono stati avvelenati in città a Ragusa durante il loro ritiro. Il tutto sarebbe poi sfociato nella loro sconfitta per 6-0. Accuse forti quelle di Emanuele Filiberto che avevano portato la società ad adire alle vie legali. Oggi ad esprimere soddisfazioni è la SD Ragusa Calcio che evidenzia come il risultato ottenuto sul campo e confermato nelle competenti sedi giudiziarie sportive resti invariato e confermato. La Corte Sportiva d'Appello Nazionale infatti accogliendo l'eccezione preliminare dei legali della SD Ragusa Calcio, gli avvocati Francesco Guastella e Stefano Schininà, incaricati dalla società azzurra per curare la fase contenziosa innanzi la Corte Sportiva d'Appello presso la FIGC, ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della SD Ragusa Calcio, Giuseppe Trapani. Abbiamo vinto questa prima causa, tra virgolette, chiamata così, in quanto loro chiedevano di ripetere la partita, cosa che assolutamente dalla Lega non è stata così perché finalmente ha dato conto a noi dove la partita omologamente è stata vinta, quindi sia dentro che fuori il campo senza nessun problema. Avete presentato una querela con l'avvocato Fabrizio Cavallo. Noi lunedì abbiamo provveduto a presentare questa querela nei confronti del principe Emanuele Filiberto dopo le sue accuse pesanti nei nostri confronti e nei confronti in particolare della città di Ragusa. Andiamo al San Vincenzo di Taormina nel reparto di Cardiochirurgia Pediatrica a rischio chiusura. Lo sapete, molte le famiglie che con accorati appelli hanno chiesto non solo una proroga di sei mesi già ottenuta a partire dal primo agosto ma anche una deroga dal Ministero della Salute. Nonostante le condizioni meteo avverse per le abbondanti piogge, i rappresentanti di 30 associazioni, comuni del comprensorio, sindaci, famiglie sono scesi in piazza Municipio e Giardini Naxos per sensibilizzare il Ministro alla Salute Orazio Schillaci a concedere un'aderoga al Centro di Cardiologia Pediatrica del Bambino Gesù dell'Ospedale San Vincenzo di Taormina che consentirebbe di superare il limite del bacino di 5 milioni di abitanti per ogni riparto di questo genere. Malgrado il maltempo, dunque, si sono raccolti in tanti in piazza. Il Presidente della Regione, Renato Schifani, ha concesso una proroga di sei mesi alla struttura dopo che un centro di Cardiochirurgia Pediatrica dovrebbe essere aperto a Palermo. Adesso si punta a fare proseguire l'attività a Taormina in maniera stabile. Speriamo, ha detto Cettina Rizzo a Lanza, rappresentante del Comitato dei Genitori, che il nostro appello venga accolto. È terminato alle 9.30 il prelievo di organi su un 71enne che era ricoverato nel reparto di trepia intensiva dell'Ospedale Maggiore Baglieri di Modica. Dopo cinque ore è terminato alle 9.30 di questa mattina il prelievo di organi all'Ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica su un paziente di 71 anni deceduto. L'uomo era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del nosocomio modicano. Dopo l'accertamento di morte cerebrale, acquisito il consenso alla procedura dei familiari e ottenute le necessarie indicazioni da parte del Centro Regionale Trapianti, sono entrate in azione l'equip chirurgica dell'ISMET di Palermo e quella dell'Unità Operativa di Rianimazione dell'Ospedale di Modica, diretta dal dottore Rosario Trombadore, che hanno provveduto al prelievo di fegato e reni. L'equip ha visto la collaborazione anche del dottore Guglielmo Scimonello, del dottore Vito Marullo e degli infermieri Rosanna Tizza, Martina Burgaletta e tutta l'equip infermieristica della terapia intensiva, compresi i medici che si sono alternati durante le fasi del prelievo per garantire la continuità assistenziale nel favorire l'intero percorso. L'ASP di Ragusa ringrazia anche l'equip infermieristica del blocco operatorio di chirurgia del Maggiore Baglieri. La direzione strategica dell'ASP di Ragusa, insieme con la direzione medico-ospedaliere e il personale della terapia intensiva, hanno espresso le più sentite condoglianze e un ringraziamento ai familiari per aver contribuito con generosità e altruismo al buon esito della procedura. I pazienti in lista d'attesa per il trapianto presso l'ISMET sono stati già allertati. Chiedono più sicurezza ai residenti di Via delle Terme ad Accireale, che gli automobilisti non rispettano le regole, ma ci sono dei nuovi provvedimenti. Vediamo. Installate qualche anno fa queste telecamere, siamo in Via delle Terme ad Accireale, di fatto hanno funzionato solo un paio di mesi. Telecamere che erano state installate con la speranza che potessero in qualche modo aiutare il lavoro del corpo municipale della polizia. Le telecamere però non sono omologate, perché c'è una legge del Ministero che dice che per elevare sanzioni serve la pattuglia e che queste telecamere possono essere utilizzate solo a ridosso di zone a traffico limitato per controllare chi accede in queste zone. Ecco perché queste telecamere, dopo tanti anni in cui sono state ferme, verranno tolte per essere installate da altre parti. Ma qui c'è un problema, la gente non rispetta le regole. Camminano veloci, c'è tutti. Non c'è la presenza di frammarsi. E stanno veloci. C'è pari che erano con la strada qua. Corrono come se fosse che ci sono solo loro. Sì, sì, ci siamo. Vedo il colosso di stuporamende. Corrono come tante pazze. Cosa servirebbe secondo lei? Un po' di vigilanza. Un pochettino anche i conducenti delle auto, deve essere più prudente. Noi abbiamo trasmesso tutta la documentazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti perché ci autorizzi all'installazione dei medesimi. Quanto è costato il noleggio? Il noleggio sono 12 mila euro, ma tuttavia non sono soldi persi perché noi li stiamo ristrutturando, li stiamo riutilizzando per questa nuova attività. Stiamo avviando anche con il Ministero dell'Interno una domanda, abbiamo presentato la domanda, per l'installazione di ulteriori telecamere. Questa è fine della sicurezza e quindi che riguardano tutto il territorio comunale accese. Per quanto riguarda la velocità, come interverrete? È in prospettiva l'acquisto del misuratore di velocità mobile. E metterete anche degli attraversamenti vedonali rialzati? Si può ipotizzare? Certamente. Adesso una triste notizia che ha colpito la comunità modicana e non solo, l'addio a Loisa Montu, collega giornalista che se ne è andata a causa di un male incurabile. Ha 76 anni, i funerali saranno celebrati lunedì nella chiesa di San Luca a Modica. Una firma autentica ed una classe innata, dall'accento romano come lo era il suo cuore, che di Roma portava colori e ricordi. Loisa Montu non c'è più. Un vuoto nel mondo editoriale locale e un lutto che ci colpisce da vicino per la storica amicizia che l'ha sempre legata alla nostra realtà editoriale. Si è spenta in silenzio dopo una lunga malattia. È stata direttore ed editore del periodico La Pagina. Alcuni l'hanno soprannominata la donna in giallo proprio per il colore del giornale. Giallo. Luisa aveva 76 anni. Era di Roma, ma Modica l'aveva raggiunta per amore, per il matrimonio con il notaio Giuseppe Terranova. La Montu collaborava con il marito, ma la sua passione per l'editoria l'aveva portata a fondare il giornale, che ha sempre garantito una voce autentica, oltre che uno sguardo vigile, sulla città. Era romanista sfegatata ed aveva dei riti per le sue partite che non perdeva mai. Donna di cultura, eleganza e affabilità. Uno spirito buono a prescindere da ciò che riceveva. Viveva di sincerità e gentilezza. Lascia il figlio Luca. I funerali si svolgeranno lunedì 22 maggio alle 15 nella chiesa di San Luca, a Modica. Successivamente sarà cremata a Mister Bianco. Condoglianze giungono alla famiglia della collega Luisa Montu, da parte del gruppo televisivo video mediterraneo. La commemorazione in memoria del vicebrigadiere Tommaso La Spada si è tenuta una cerimonia ieri nel comune di San Filippo del Mela, nel Messinese. Cerimonia di commemorazione in memoria del vicebrigadiere Tommaso La Spada, finanziere che nel corso della Seconda Guerra Mondiale, insieme ad altri comilitoni delle fiamme gialle della caserma di Campo Marzio di Trieste, è rimasto vittima delle foibe di Basovizza. La cerimonia si è tenuta presso il parco urbano del comune di San Filippo del Mela, in provincia di Messina. presenti le massime cariche istituzionali, come il viceministro dell'economia e delle finanze Maurizio Leo, il comandante regionale Sicilia generale di divisione Cosimo di Gesù, il prefetto di Messina Cosima di Stani, il sindaco di San Filippo del Mela e ancora parlamentari nazionali e regionali e poi le istituzioni militari e religiose. Scoperta la lapida intitolata, il vicebrigadiere La Spada, la presenza di un familiare del militare e con la benedizione di Don Nunzio Triglia, parroco della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo di San Filippo del Mela. Scopo della cerimonia è di portare alla memoria il ricordo di quei tragici momenti vissuti dalle vittime delle foibe nel corso della Seconda Guerra Mondiale durante la quale la Guardia di Finanza fu fortemente impegnata in combattimento su molti fronti, tra cui l'Albania, la Jugoslavia e la Grecia. Nel corso della cerimonia, la lettura della preghiera del finanziere da parte di Don Antonino Pozzo, cappellano militare della Guardia di Finanza della Regione Sicilia con l'arresa degli onori ai caduti. Ci fermiamo, c'è una breve pausa pubblicitaria tra poco. Ancora ben trovati nel studio per la seconda parte di MTG al via la 44esima edizione di Infraudio di Noto dedicata al cinema. Migliaia di turisti probabilmente da tutto il mondo nonostante la pioggia e il vento sul posto. Valentina Frasca. Nemmeno il ciclone ferma l'Infiorata 2023. Tantissimi turisti che, come ieri del resto, giornata dell'inaugurazione, si sono riversati nel centro storico di Noto. Sì, la prima volta, sì. Da dove arrivate? Della Calabria. Provincia di Catanzaro. La Messia Terme. Siamo comunque. La Messia Terme. Siete qui appositamente per l'Infiorata? Sì, sì. Bella, bellissima. Io da Firenze, insomma, con l'esattezza da Poggi Bonzi in provincia di Siena, a Noto per l'Infiorata, sì. Prima volta? È la prima volta. La pioggia non vi ferma, il vento neanche? Per ora no, poi vediamo se continua così va tutto bene, bellissimo, molto bello. Da Brasile. Prima volta in Sicilia. Noto, bellissima. Io ho accompagnato ieri sera e la gente che faceva tutto questo quasi mezzanotte e la gente ancora lavorava. L'Infiorata di Via Nicolacci quest'anno è ispirata al cinema e ripercorrendo la storica via barocca è possibile ammirare titoli di film celebri girati in città. Il tappeto di fiori è lungo 122 metri e largo 7 e per realizzarlo ci sono voluti circa 400.000 fiori. Noto è stato da sempre set cinematografico di tanti film importanti che è stato girato qui a maggio del 2022 The White Lotus che sta portando già da mesi migliaia di turisti americani. Registriamo anche per questa infiorata tante presenze di turisti francesi, tedeschi. Anche questa 44esima edizione come quella dello scorso anno avrà una durata di 5 giorni grazie al sistema di irrigazione che permette di preservare i petali. L'infiorata dura dal venerdì quando viene allestita poi fino a martedì 23 perché ci sono tutta una serie di eventi collaterali i colori e i fiori sono gli attori ma i veri registi di questa kermess sono i nostri maestri infioratori. Impossibile poi non fare una tappa sulla meravigliosa scalinata artistica realizzata in via Fratelli Bandiera. Non solo la bellezza ma anche l'eleganza questo dà anche la misura dell'importanza e del lavoro che c'è dietro nel realizzare un evento del genere. Giovani sempre più europei con un progetto promosso dall'Istituto Giovanni Verga di Modica. L'Istituto di istruzione superiore Giovanni Verga di Modica rientra tra le scuole ambasciatrici del Parlamento europeo. Aderendo al progetto EPAS l'Istituto modicano ha dato l'opportunità agli studenti di conoscere meglio l'istituzione Europa dal punto di vista giuridico giudiziario legislativo sociale e politico un'occasione che ha dato l'opportunità di confrontarsi anche con un rappresentante del Parlamento europeo proveniente dalla regione siciliana. Ieri mattina per questo motivo a raggiungere l'Istituto modicano è stata la europarlamentare Caterina Chinnici simbolo dell'antimafia figlia del giudice Rocco Chinnici a cui si deve l'impulso dell'istituzione del pool antimafia Caterina Chinnici ha parlato della sua esperienza al Parlamento raccontando cosa è l'Europa è bello ed è giusto che i ragazzi conoscano in maniera più diretta le istituzioni europee il lavoro che si fa e che comincino a sentirsi parte di quell'Europa che invece qualche volta ancora sentiamo piuttosto lontana ma non è così e bisogna soprattutto lavorare per avvicinare i giovani all'Europa per sentirsi cittadini europei un'opportunità a cui ha creduto il dirigente scolastico dell'istituto di istruzione superiore Giovanni Verga di Modica Alberto Moltisanti e che ha preso vita in questo anno scolastico dando la possibilità di comprendere i propri diritti di cittadini dell'Unione Europea e di scoprire il ruolo del Parlamento europeo agli studenti tra i momenti importanti anche la visita dell'europarlamentare si deve al lavoro della professoressa Andorci e della professoressa Agosta questo avvicinamento dei nostri studenti alle istituzioni europee a te del vero noi siamo già scuola polo per l'Erasmus quindi i nostri alunni sono già abituati a girare lungo e largo l'Europa però un conto è visitare i paesi entrare in contatto con altre culture che hanno altre realtà altro invece è avere la possibilità di studiare dal vivo grazie appunto alla presenza alla lezione di chi vive quotidianamente l'istituzione europea cosa significa oggi far parte dell'Unione Europea Mare Pulito questa è l'iniziativa che ha coinvolto gli studenti dell'Istituto Nautico di Catania che hanno deciso di ripulire i fondali vicino al porto di Ognina muta bombole e tanta voglia di tutelare l'ambiente questi elementi che hanno animato gli studenti dell'Istituto Nautico Duca degli Abruzzi di Catania che hanno deciso di pulire una porzione di mare esattamente quella vicino al porto di Ognina grazie all'iniziativa Mare Pulito sui fondali tanti rifiuti di tutti i tipi ma anche intorno nel molo altri studenti infatti si sono occupati di ripulire le zone esterne al mare così da evitare che questa spazzatura potesse finire in acqua ad aiutare gli studenti in questa attività la Capitaneria di Porto di Catania il Comune e l'Associazione Ionica Diving School Il mare purtroppo viene buttato di tutto lanciamolo un appello anche per i vostri coetanei che dimenticano l'importanza della natura dell'ambiente Il mare è molto importante e va protetto e l'inquinamento è una gran brutta cosa la gente non ha il minimo rispetto del mare e appunto della fauna e flora che ci si trova dentro e gli animali appunto soffrono di questo gli ambienti naturali le loro case che appunto hanno sono rovinate appunto dall'uomo È davvero tutto con questo servizio grazie per la cortita attenzione a voi tutti buon fine settimana